Il bilancio della tappa partenopea dell'America's Cup si chiude con due successi. Quello di Luna Rossa, sottolineato dal bellissimo momento del passaggio sul lungomare davanti al pubblico in festa, è quello della città, che ha dato di sé al mondo un'immagine certamente molto diversa da quelle che l'avevano messa in discussione l'anno scorso. Il dato sportivo dunque consegna alla Coppa America una nuova protagonista, Luna Rossa, che vincendo domenica l'ultima regata ha portato a casa il trofeo della tappa, un successo che è stato subito chiaro grazie ad una partenza lampo che ha sorpreso gli altri equipaggi e le ha permesso di prendere la testa per non lasciarla più fino alla fine. Lo skipper Max Sirena si è dichiarato alla fine entusiasta sia per il risultato sia per il tifo delle migliaia di persone, uno spettacolo che è difficile vedere anche nelle fasi finali dell'America's Cup. Soddisfatto Paolo Graziano, presidente dell'Unione Industriale di Napoli, che per il prossimo appuntamento del 2013 si aspetta di rivedere qualcosa nella gestione dell'evento e lo stesso afferma il sindaco di Napoli, Luigi Di Magistris, che nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, ribadisce che ora dopo aver dato tanto alla Coppa ci si può aspettare di modificare qualcosa per il futuro. Infine il commento del console statunitense, Donald Moore, affidato ad un messaggio su Twitter. Il mondo intero ha visto cos'è veramente Napoli, grazie ad America's Cup e a chi ha lavorato per portarla qui. Congratulazioni.